Allora, cominciamo da dire, signore e signori, vi è capace di prendere l'attenzione e di cominciamo, ragazzi cominciate, io non posso parlare, un giornalista lo porta appena, però cominciamo, cominciamo col presentarci, cominciando da te, di il tuo nome e poi passi. E che cosa sei? Mi chiamo Patrizia, attualmente sono guest, sono in pensione e sono venuto qui per 5 anni, ma ho fatto parte di un vecchio gruppo, Centro 6 Eurobildo e Eurobildo International Italy successivamente per gli anni 80, del 79. Benissimo. Vabbè, io sono Carla. Conosciamo tutti. Io sono Sosnita, che siete tutti? Conosciamo tutti. Io sono Marika. Conosciamo tutti, conosciamo tutti, conosciamo tutti. E voi? Sì, parlai, perché siamo italiani, siamo specialisti in parlare e non combinare niente. E noi siamo l'uomo. Ecco. Aspetta, lasciamo, era arrivato a Marika. E lascia che tutti si presentano, forse è molto meglio. Io sono Franca, italiana da quasi 30 anni. Ti chiami? Come sei? Franca. Franca. Io sono arrivato nel gennaio dell'84, quindi nel gennaio prossimo, nel 14, saranno tre. Tre. Ma c'è un'altra bella. Non 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 c'è un'altra bella. Eh, mi è stato il 60. Non c'è un po'. Ma andrà a casa. Continuiamo con la presentazione. Ma non vi ha un'altra bella. Allora, per salva in breve, perché qui sennò perdiamo tempo. Già Gran, lascia a presentare la gennaio. 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 Già Gran, dove siamo? Già Gran, sono pauridiano da tre anni e sono pauridiano da cinque anni e mi è venuta un giorno l'idea di fare questa visione di qui per fare questo punto sulla situazione italiana, perché credo che l'Italia abbia diritto a questo. Ho un piccolo riscorsetto introduttivo che farò dopo che abbiamo finito questa tornata di presentazione. Abbiamo saltato l'etto. Eh, è arrivato. Ma lei era in giro a pari del... Si stiamo presentando uno per uno. Ok. Devaiani. Devaiani. Sì. La presentazione è da quanto siamo approfondi. No. Due parole. Sono a Aurovigliana anch'io da due anni, da cinque che sono ad Auroville più o meno. È un'avventura grossa, assolutamente più semplice, però è molto interessante. Molto interessante. Erika? Giudice? Lei la... Giudice, sì, sì. È tornata a terra. No, 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 è Giuseppe, no? Giuseppe no. È lo stesso, no? Facciamo il giro così. Sì. Vabbè, io mi chiamo Emanuaro, sono qui da dieci anni e faccio l'uomo a Aurovigliano. Poi? Io. Io non sono a Aurovigliano, sono qua ospite in Aurovigliano. Per cui, non ho sentito... che cosa dica come io andiamo via grazie sono arrivata nel gennaio del 84 con franca praticamente Nicola sono rovediano dal 94 faccio la donna del tecnico e sono venuto qua perché sono fuori a vedere che non succederà qualcosa di minore Enrica aspirante newcomer siamo rovella cinque mesi sei mesi siamo in India da cinque anni però qualcuno lo sa siamo stati alle andamane cinque anni e siamo a tanto di passano a Gianna Giulio il marito è quattro mesi e mezzo cinque mesi siamo qua aspirante newcomer avevamo un'intervista il giorno dell'incendio no questo non si è è il giorno che è bruciato l'incendio quella mattina siamo andati per l'intervista e non c'era tutto grazie a tutti grazie a tutti